L'altra faccia delle problematiche che interessano gli anziani è la solitudine. Tutto è successo questa notte, poco dopo le 24, il sostizio d'estate si apre con un femminicidio aderezzo. Ha chiamato i vicini per dire che aveva sparato alla moglie e poi ha atteso l'arrivo dei soccorsi e della polizia. Omicidio della disperazione in Via Leggiotto, dove Alessandro Sacchi, agente di commercio in pensione, e 80 anni, viveva con la moglie Serenella Mugnai di 72 in una palazzina al 162. Come confermato dalla donna che prestava servizio in casa, l'uomo accudiva la moglie da solo, non avendo figli, e negli ultimi mesi era sembrato molto provato dalla malattia della consorte, affetta dal morbo di Alzheimer. Intorno a mezzanotte e mezza l'ottantenne ha impugnato la sua calibro 7,65, ereditata dal padre e ha ucciso la moglie. Sul posto sono intervenute l'automedica, l'ambulanza della Croce Bianca, ma per la signora non c'era più nulla da fare. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato e sono coordinate dal pubblico ministero Marco Dioni. L'uomo è stato fermato e portato in questura. Sacchi è difeso dall'avvocato Melani Graverini. Nelle prossime ore è attesa l'udienza per la convalida dell'arresto.